Dal 1 gennaio 2016 i costi per salvare una banca in crisi non ricadono più sui contribuenti, ma sugli azionisti e i risparmiatori della banca stessa. È il cosiddetto bail-in, che significa proprio salvataggio interno. Lo stabilisce la nuova normativa europea per evitare che gli effetti del dissesto si propaghino sui bilanci degli Stati. Il meccanismo di salvataggio segue una gerarchia ben precisa, secondo il principio per cui chi ha scelto forme di investimento più rischiose sostiene le perdite prima degli altri. Si inizia quindi dagli azionisti, ai quali l'autorità di risoluzione, in Italia la Banca d'Italia, può ridurre o azzerare il valore delle azioni. Se questo non basta, vengono coinvolti dapprima i possessori di titoli subordinati, per arrivare poi a chi detiene obbligazioni della banca non garantite dal fondo di garanzia degli obbligazionisti. Nel caso questo non sia ancora sufficiente a risolvere la crisi, ne rispondono i depositanti, ma solo per gli importi superiori ai 100.000 euro. Anche se il bail-in si applica solo in caso di dissesto, l'impatto della normativa è enorme. Perché capovolge la prospettiva. Non è più la banca a dare fiducia al cliente, ma il cliente che dà fiducia alla banca, valutandone la solidità. Come? Controllando un indicatore, il Common Equity Tier 1 Ratio, o più semplicemente CHET 1 Ratio, cioè il rapporto percentuale tra il patrimonio della banca e l'insieme delle attività, ad esempio i prestiti, ponderate per il rischio. Più alto è questo valore, più la banca è solida. Tieni presente che le norme europee prevedono un requisito minimo di capitale complessivo del 7%. Il sistema del credito cooperativo in Friuli-Venezia-Giulia ha un CHET 1 Ratio del 18,1%, mentre il sistema bancario italiano è all'11,8%. Per saperne di più, visita il sito www.bancaditalia.it